Giovani, impresa e innovazione. Se ne è parlato ieri durante l'incontro promosso dal distretto di 50 per parlare delle strategie per supportare i giovani nell'avviare nuove imprese. L'iniziativa è stata anche l'occasione per aprire il secondo chiostro di San Domenico. Gli spazi della storica struttura, una volta riqualificati, sono stati infatti destinati a centro giovanile, culturale e per le famiglie del distretto di 50. Questo è un giorno bellissimo per noi, per due ordini di motivo. Intanto perché riapriamo il complesso San Domenico e quindi diamo l'avvio a quello che è per noi, per la città e per il territorio del distretto sociosanitario 50, sarà il centro giovani e famiglie. E questa è una cosa bellissima perché consentirà davvero di animare questo spazio e renderlo ricco di opportunità per i ragazzi, opportunità sociali, culturali, ma anche opportunità di accompagnamento al mondo del lavoro. Per cui questo progetto si inserisce nell'ambito delle politiche per il welfare sociale e noi l'abbiamo fortemente voluto. Quando dico noi intendo i comuni dell'area funzionale urbana, sono 11 comuni. Abbiamo anche steso il progetto ai 9 comuni del distretto sociosanitario 50, con Trapani Capofila e per raccontarvi un po' quello che è stato questo progetto e quello che rappresenta per noi questo progetto, semplicemente vi dico che abbiamo coinvolto 200 ragazzi, abbiamo raccolto 37 proposte di impresa e stiamo accompagnando con tutor qualificati i ragazzi a far maturare questa idea, a sviscerare quelle che sono anche le criticità di un'impresa e quindi accompagnandoli anche a un'eventuale candidatura per un'ammissione a finanziamento, per condizioni agevolate e quant'altro. Per cui questa è una bellissima giornata oggi i ragazzi stanno presentando, alcuni dei 37 ragazzi che hanno scelto di partecipare a questo progetto rappresenteranno le loro idee al territorio e avranno l'occasione di confrontarsi con stakeholder qualificati, ci saranno banche, c'è il polo universitario di Trapani, ci saranno gli amministratori, ma ci saranno anche imprenditori che potranno dare loro dei consigli e anche raccontare le opportunità che ci sono sul territorio per loro.